Si indaga per accertare se si sia trattato di un'azione scatenata da un risentimento personale o di un vero e proprio atto intimidatorio dietro all'incendio appiccato ieri notte a Pescara davanti alla sede dell'Ater. Nessun dubbio comunque sull'origine dolosa viste le tracce di infiammabili rinvenute nei pressi. Noi comunque andremo avanti con la demolizione e con gli sfratti hanno detto questa mattina in conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il presidente dell'Ater di Pescara Mario Lattanzio. L'operazione di bonifica delle case popolari prosegue e chi le usa per delinquere verrà cacciato, mentre per i più fortunati si apriranno le porte del costruendo palazzo di via Cetteo e Ciglia, un edificio all'avanguardia. Su Viale Ciglia facciamo un adeguendo sismico dell'esistente che sono circa 15 appartamenti, in più costruiamo a contatto una nuova costruzione veneristica perché prevediamo anche a causa Covid la sala smart working, la sala per i bimbi, per gli anziani, un giardino pensile sul terrazzo. In più, una cosa proprio innovativa, creiamo dei posti a pressione negativa per eventuali malati di Covid che possono essere trattati nell'interno stesso di questo palazzo. Posso pensare che l'atto intimidatorio sia stato fatto da qualcuno che magari ritiene che si possa continuare a vivere dentro un alloggio popolare comportandosi in maniera illegale o a detenerlo in maniera illegale. Questo non è più possibile e non sarà mai tollerato. Quindi, oltre ad esprimere la mia vicinanza al presidente Lattanzio, lo invito a continuare l'opera intrapresa per consegnare un alloggio popolare a chi lo sa tenere, a chi dentro ci si comporta con dignità e a chi ne ha diritto. E soprattutto a continuare con il progetto di demo ricostruzione del ferro di cavallo, che è un'orrenda costruzione dove si scelano tutti i reati possibili e immaginabili e tanta brava gente deve essere tenuta in ostaggio da piccoli gruppi che delinquono. Un atto che non voglio neanche commentare, è un atto gravissimo, però noi andiamo avanti sulla nostra strada, cerchiamo di fare il meglio, sempre rispettando le norme e tutelando le persone che hanno diritto ad avere una casa. Noi dobbiamo comunque incrociare le tempistiche del sisma bonus, che come sapete è una scadenza al 2022 e questo ci aiuta nella demo ricostruzione di una parte di alloggi che devono ospitare le persone che nel frattempo da lì saranno tolte e che hanno diritto ad avere un alloggio confortevole e più confortevole di quello che hanno in questo momento.